è il quinto anno che ritorno al Silhouette Film Festival ed è sempre bello ritornare qui è un modo per rincontrarsi e rincontrare persone e approfondire dei temi che riguardano tutta l'umanità e non solo i monaci e la fede. Quest'anno il tema del Silhouette Film Festival è la speranza e io credo che bisogna continuare a avere speranza, speranza per una buona vita, un buon vivere e credo che questi incontri servono proprio a far pensare alla vita e ad amare la vita.